Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video Allora, allora, la Juventus inizia il suo ritorno in Champions League con una vittoria convincente 3-1 contro il PSV I bianconeri si sono, questa partita, veramente si sono trasformati Cioè praticamente si sono imposti con autorità fin dai primi minuti Sbloccando il risultato al ventunesimo grazie al gol di Hildiz Poco dopo il ventisettissimo McCann che ha raddoppiato consolidando il vantaggio in tutto il primo tempo Poi nella ripresa Nico Gonzalez ha chiuso virtualmente la partita con un terzo gol della serata Che però poi successivamente il PSV ha trovato la rete con Saibari all'ultimo minuto di recupero Ma il risultato comunque era già nelle mani della Juventus Questa vittoria sostanzialmente, secondo me, questa vittoria segna comunque un ritorno promettente per la Juventus in Champions Questo è quello che può sembrare comunque in apparenza Dimostrando comunque solidità e incisività contro un avversario che non dico che è come i morti Però comunque un avversario che è leggermente competitivo però neanche tanto schiappa Ho sentito in qualche video che ha vinto contro i morti La Juventus Beh, diciamo che il PSV è una buona squadra Nel campionato dove gioca mi sembra che è prima in classifica Mi sembra, correggetemi se sbaglio E comunque se il PSV è una squadra dei morti La Juventus non è che sia proprio un super squadro nel momento Quindi per essere anche una Juventus ridimensionata Ha vinto comunque contro una squadra che a pari livello è competitiva Quindi comunque la Juventus ha fatto la sua parte In particolare comunque Cioè nel primo tempo Cioè in particolare nel primo tempo dove iniziare era stato un inizio un po' complicato Per la Juventus che ha sofferto nei primi minuti Però poi comunque alla fine prende il controllo della partita A partire dal ventunesimo con Yildiz E poi dopo susseguirsi appunto al ventisettesimo con McKenna E col terzo gol di Gonzales E poi nel secondo tempo mantiene il ritmo Allunga con il cinquantodesimo con il gol di Nicolo Gonzales Che sigla il 3-0 E poi vabbè il gol nell'ultimo minuto di recupero Però ragazzi in questa partita la Juventus ovviamente Cioè si è visto comunque una squadra che ha giocato stasera Ripeto il PSV non è una squadra Non è un super squadrone magari per come siamo abituati noi Però da dove gioca Credo che sia prima in classifica o comunque competitiva E ripeto la Juventus non è la Juventus di Iguen o di Ronaldo Che in questa qua gli avrebbe fatto almeno 5-6-0 Cioè questa Juventus è molto più ridimensionata Con uno schema comunque con giocatori molto meno forti Perché bisogna dirlo Con giocatori molto meno forti E comunque che viene da almeno 3-4 anni Comunque viene da 3-4 anni Che galleggia o meglio sta in una situazione abbastanza stagnante la Juventus Quindi attenzione quando dite ragazzi ha vinto contro i morti Non ha vinto contro i morti la Juventus Perché la Juventus per metà possiamo dire che è quasi morta E l'altra metà galleggia comunque come squadra Quindi Poi c'è Tiago Motta che sta facendo un po' la differenza Anche se in campionato al momento sta facendo un po' così così Però come prima partita possiamo dire che è partito bene Diciamo che Tiago Motta a differenza di Allegri Che c'è là lo schema di gioco soltanto che serve perseveranza e continuità Cosa che Napoli c'è là con Conte Dopo la sconfitta dopo il Verona va avanti La Juventus invece è altarenante Alti e bassi E non riesce ad avere stabilità La Juventus a differenza del Bologna deve avere stabilità Con Bologna ti puoi permettere il quarto posto Caro Tiago Motta Ma con la Juventus nel quarto posto Hai un fallito sostanzialmente Purtroppo hai bisogno di dire la verità È così Se arrivi quarto alla Juventus sei da esonerare come allegatore Perché la Juventus è la squadra che deve vincere appunto C'ha questa politica qua Ma diciamo la Juventus in primis Come anche le altre squadre Ma la Juventus c'ha proprio Questa mentalità aziendale Che tu devi portare i risultati Se non li porti sei fuori praticamente Purtroppo è così E vedremo appunto quest'anno non solo in campionato Ma anche in Champions quello che riuscirà a fare Tiago Motta Per quanto riguarda il Milan ragazzi Il Milan ha preso schiaffone a destra e a sinistra Da impazzire proprio Ha preso schiaffone con il Liverpool a destra e a sinistra È stato un Milan peroso Secondo me Fonseca Milan sta a fa schifo in campionato Che veramente non si può guardare E anche in Champions è partita di merda Secondo me Fonseca Fonseca non arriva a Natale Proprio a far panettone a casa Lo dico io proprio Far panettone a casa Perché veramente Ha fatto un gol per bucio di sedere Pulisic Pulisic come cacchio si chiama Al terzo minuto del primo tempo Poi al ventitresimo Conate del Liverpool Vandilic al quarantunesimo Al sessantesettesimo Dominic Ma comunque ha stradominato Ha stradominato Liverpool Proprio a Milan Ha fatto un tiro in porta Per quei gol E poi proprio non si è vista più Infatti Non so quanto durerà Fonseca Non lo so quanto durerà Quindi questo è il quanto ragazzi Questo è il breve riassunto Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video Iscrivetevi al canale E condividetelo su tutte le bagheche di Facebook Telegram, Whatsapp che avete E continuate a sostenere economicamente il mio canale Attrezzo Paypal o qualche bonifico bancario Insomma Con questo è tutto Vi aspetto Al prossimo video Ciao a tutti ragazzi